3, 2, 1 Ciao a tutti ragazzi, oggi voglio parlare di arance Gaia Sicilia da parte di Margarone Dorotea che comunque si trova in Palacone, provincia di Catania praticamente ho ricevuto tutta questa bontà ovvero 9 kg di agrumi partiamo qui da queste arance tarocco gallo a polpa rossa veramente fantastici poi abbiamo qui l'arance navel di tavola questi sono squisiti e poi qui abbiamo mandaranci senza semi la particolarità è che è un mix tra mandarino e l'arancio dato comunque le sue dimensioni e la particolarità in più è che comunque sono senza semi poi qui abbiamo i pompermi e infine qui i limoni veramente fantastici vi consiglio di andare a vedere comunque la loro pagina arance Gaia Sicilia o comunque direttamente sul sito www.arancegaiasicilia.com e spedisci in tutta Italia veramente una squisitezza veramente si senta la Sicilia qui al nord e spedisci in tutta Italia